Con l'inizio di luglio è finalmente arrivata anche la tanto agoniata estate, con sole, caldo e mare, tanto mare. E qual è il modo migliore per affrontare questo periodo? Senz'altro andare sul litorale per fare un bagno rinfrescante, e così molti vibonesi, armati di asciugamani, ombrelloni, paletti e secchielli, si sono recati felice lungo i tanti tratti di spiaggia di cui è fornito il comune di Vibo Valenza. Ma ad attenderli a volte ci sono anche delle brutte sorprese, come ad esempio succede sul lungomare Amerigo Vespuccia Vibo Marina, dove le nostre telecamere si sono recate prontamente per vedere di che cosa si tratta. Con immenso stupore ci siamo accorti che nascosti tra la sabbia ci sono dei pericolosissimi pezzi di Eternit, il materiale di fibrocemento di amianto, utilizzato in edilizia come materiale di copertura, oppure come co-inventazione di tubulare, tanto apprezzato nel secolo scorso per la sua resistenza e indistruttibilità. Da qui anche il suo nome, Eternit, dal latino eternitas, che vuol dire appunto eternità. Il suo utilizzo venne vietato allora quando si scoprì la sua pericolosità. Da allora è obbligatorio denunciarle l'esistenza e rimuovere tutte quelle parti danneggiate tramite ditte altamente specializzate. Ma qualcuno ha pensato che fosse troppo oneroso e quindi, fatte in frantumi le lastre, le ha gettate sul litorale pensando di nasconderle tra la sabbia grigia delle spiagge, incurante del pericolo che poteva creare. Qui abbiamo scoperto che c'è molto di lastre di amianto in pezzettini, perché quando ho fatto i lavori del lungomare, probabilmente quando ho rimosso tutta la strada, è emerso che c'era dentro l'amianto. Siamo da un paio di anni che continuiamo a reclamare, dicendo senza fare rumore, non vogliamo fare scandalo oppure vogliamo fare le barricate, vogliamo gentilmente chiedere di poter mantenere la spiaggia pulita e decorosa, tutto lì. A chi vi eravate rivolti? Nella vecchia amministrazione era l'assessore allo sport e turismo, era già al corrente, e poi c'è stato anche l'assessore dei lavori pubblici, stiamo qui in attesa che puliscono la spiaggia, e adesso la spiaggia la prendiamo continuamente, siamo lì a pulire, a pulire le cose, perché almeno dovrebbero mandare anche qualche persona di tenere la spiaggia pulita, perché c'è anche gente che non è civile, sinceramente mi devo dire la denuncia che faccio io ai cittadini, ai bagnanti, di mantenere la spiaggia pulita, perché sono loro che vengono a fare i bagni e che se la mantengono pulita la loro spiaggia e collaborare per pulire la spiaggia.